Marco Donnini, schiacciatore della Pallavolo Torgiano, una Pallavolo Torgiano abbastanza competitiva nel primo e nel terzo set, però alla fine è venuto fuori uno 0-3 qui a Masciano. Purtroppo altri bassi, abbiamo un deficit organico, siamo veramente in difficoltà, ma ci proviamo comunque. Una categoria nuova per Torgiano che l'anno scorso è stata promossa, però tutto sommato siamo a centro classifica, si può giocare un play-off comunque importante in questa Serie D? Sì, noi puntavamo a media classifica, giustamente essendo nuovi, potevamo fare meglio, ma a fine ora va bene com'è. Ci sono delle squadre al vertice che sono letteralmente inarrivabili, leggi Foligno, Cusperugia e anche la stessa Persichetti-Masciano. Le altre, secondo te, sono alla portata di questo Torgiano? Io credo che l'organico al completo potrebbe combattere contro tutti, giustamente il Foligno c'è una Marciano più, ma fortunatamente è già passata in Serie C, perciò giocandocela di nuovo con il Torgiano, da Torgiano con qualcuno in più contro il Marciano, ci speriamo di arrivare fino in fondo. Gli obiettivi del Torgiano sono stati già raggiunti per questa stagione? Sicuramente sì, perché è una squadra nuova, l'importante è non fare figuracce, giustamente. In campo ci stiamo, si può fare sempre meglio.